Ciao a tutti, il video di oggi servirà per spiegarvi come collegare un sensore di temperatura al vostro Raspberry Pi. Il video si dividere in due parti, nella prima parte vi spiegherò che hardware utilizzeremo e come collegarlo al Raspberry, mentre nella seconda analizzeremo il codice scritto in Python per leggere la temperatura del sensore. Ma andiamo per gradi, passiamo all'occorrente. Per questo tutorial utilizzeremo, oltre ovviamente al Raspberry Pi, altri componenti molto facili da reperire e che potranno tornarvi utili anche in futuro. Iniziamo dal sensore di temperatura. È un sensore molto semplice, modello DS18B20, che serve per misurare la temperatura esterna, Per poterlo usare bisognerà usare una resistenza da 1.5 kOhm e una breadboard. Una breadboard è utile per evitare saldature utilizzando i cavi jumper e di conseguenza ci permette di lavorare più semplicemente e di poter provare senza dover fare cose troppo complicate. Però per collegare il Raspberry alla breadboard bisogna utilizzare un adattatore composto da queste due parti che ci facilita di molto il lavoro e ci permette di collegare tutto senza troppi problemi. Quindi, ricapitolando, oltre al Raspberry Pi ci serviremo di un sensore di temperatura con relativa resistenza da 1.5 kOhm, una breadboard della dimensione che voi volete, relativi cavi jumper e l'agattatore per collegare il Raspberry alla breadboard. Innanzitutto colleghiamo il nostro agattatore breadboard al Raspberry. Si fa così, molto semplicemente, se si trovano i buchi corretti, ok, e dopodiché si collega alla nostra breadboard, ok. Fatto ciò, prendiamo il sensore di temperatura, lo inseriamo in un posto comodo, qua, per esempio, e iniziamo e colleghiamo, dimenticavo, la resistenza. La resistenza la colleghiamo tra il connettore di alimentazione e il pin che useremo, che in questo caso è il numero 4. Dopo aver fatto ciò, prendiamo il cavo più lungo e colleghiamo l'estremità dell'alimentazione del sensore di temperatura a quella del nostro agattatore, che è la 1. se entra, ok. Poi, passiamo collegando la terra, il ground, che è il pin 13 e il pin opposto a quello di alimentazione nel sensore di temperatura, così e così, ok. e infine, quello che ci dà i dati, ossia quello centrale, al pin numero 4. Facciamo così, ok, e lo colleghiamo al pin 4. Bene, abbiamo collegato il nostro sensore di temperatura. Adesso che abbiamo concluso la preparazione dell'hardware, possiamo passare al software. Prima di cominciare, però, bisogna installare dei pacchetti che saranno utili per poter controllare le porte GPIO e poter, ovviamente, eseguire il codice in Python. Quindi, iniziamo effettuando l'update della lista dei pacchetti già presenti sul nostro PC. Questo lo si fa col comando sudo apt-get update. Dopo aver fatto ciò, ci metterà un po', quindi non spaventatemi, possiamo passare all'installazione dei veri e propri pacchetti che ci servono. Iniziamo installando il pacchetto python-dev, successivamente passiamo al pacchetto python-rpi.gpio, dopo andiamo a python-smbus, ed infine, per ultimo, il pacchetto i2c-tools, utile per vedere quali sono i sensori e le periferiche collegate al nostro Raspberry. Bene, fatto ciò, possiamo iniziare. Ed eccoci allo script vero e proprio. Innanzitutto, la prima riga deve contenere il percorso in cui è installato python sulla nostra macchina. Quasi sempre quello che vedete scritto, in teoria dovrebbe esserlo, ma controllate che non si sa mai. Passiamo poi all'import delle librerie che ci serviranno, ossia OS. Globe e Time. Proseguiamo poi con il caricamento dei moduli che ci servono nel kernel di sistema, utilizzando un comando della libreria OS, ossia System. I moduli da caricare sono v1-gpo e v1-term. Impostiamo poi la directory di base, ossia quella che contiene la lista di dispositivi collegati ai connettori GPIO, il vero e proprio percorso contenente il file generato dal sensore, ed il file stesso. fatto ciò, iniziamo a definire le funzioni che ci serviranno, ossia read-temp-row e read-temp. In read-temp-row, apriamo il file che abbiamo salvato qui sopra, utilizzando il comando open. La R messa come secondo parametro sta ad indicare che il file deve essere solamente letto. Proseguiamo poi alla lettura del file ed al salvataggio in una variabile, lines, dei dati ottenuti. Fatto ciò, chiudiamo il file con f.close e la funzione, che restituirà la variabile lines che abbiamo creato in precedenza. Passiamo ora alla funzione più grossa, ossia read-temp. Creiamo subito una variabile lines, in cui salvare il risultato della funzione read-temp-row, per poi passare all'interprecazione di ciò che il file contiene, utilizzando questo ciclo. Il metodo .strip, che se impostato a meno 3, andrà a leggere le ultime tre lettere contenute nel file lines, ci servirà per essere sicuri che il sensore sia connesso. Questo controllo viene fatto con le lettere yes o no. Se le lettere corrispondono a yes, possiamo proseguire e aggiornare il file. Finito il ciclo while, passiamo alla creazione di una nuova variabile, che conterrà la posizione precisa all'interno del file in cui è possibile leggere la temperatura. Se la variabile non è vuota, possiamo procedere e passare al salvataggio del valore vero e proprio in una variabile, per poi passare alla formattazione in un valore più leggibile. E questo lo facciamo dividendo per mille. Bene, dopo aver fatto tutto questo, possiamo passare alla parte principale del programma, ossia questa parte qua che vedete, che è quella che viene chiamata all'esecuzione del programma. Qui non si farà altro che chiamare le funzioni che abbiamo appena definito e il programma farà il resto. Bene, questo tutorial è giunto al termine. Nel prossimo video vi spiegherò come espandere questo progetto aggiungendo un led che vi segnala quando la temperatura supera una certa soglia. Grazie di cuore per avermi seguito, ciao a tutti e divertitevi!